Condannato in primo grado, assolto in appello. Lo stesso era accaduto per altre tre persone, tutte indagate nell'operazione Caterpillar, per estorsione aggravata ai danni di due imprenditori, uno di Patti e l'altro di Brolo. Ieri la seconda sezione penale della Corte d'Appello di Catania, riformando in toto la sentenza del Tribunale di Siracusa, ha assolto il geometra Vincenzo Colicchia, 67 anni, di Montalbani Licona, perché il fatto non sussiste. Stessa assoluzione avevano ottenuto in appello Angelo Monaco, 58 anni di noto, Paolo Calvo, 52 anni di Avola e Giuseppe Lombardo, 59 anni di Siracusa, assoluzione confermata anche dalla Cassazione, dopo che il GUP del Tribunale di Catania, Rosalba del Cupito, a seguito del rito abbreviato, aveva condannato il primo a 12 anni di reclusione, il secondo a 8 anni e 8 mesi e il terzo a 9 anni. L'operazione Caterpillar scattò il 6 novembre 2003 e fu portata a termine dalla DDA di Catania, dalla squadra mobile di Messina, e dal commissariato di Patti. Si contestava estorsione in concorso ai danni di due imprenditori, uno di Patti e l'altro di Brolo, aggravata dall'aver agevolato un'associazione di stampo mafioso per fatti accaduti nella zona sud di Siracusa. I due imprenditori, riuniti in associazioni temporanei di imprese, si erano giudicati lavori di costruzione di una discarica di rifiuti solidi urbani nel comune di Avola. Secondo l'originario accusa, sarebbero stati costretti a pagare un pizzo del 3% sull'importo dei lavori e a sottostare al nolo a freddo dei mezzi per il movimento terra a prezzi esorbitanti. Colicchia, che optò per rito ordinario, secondo la tesi degli investigatori, avrebbe svolto il ruolo di intermediario tra il clan siracusano Trigila e gli imprenditori messinesi. Chiuso il caso, in Cassazione, per Monaco, Calvo e Lombardo, con sentenza di assoluzione, non restava che Colicchia. In primo grado, nel novembre 2010, il Tribunale di Siracusa, pur con una richiesta di assoluzione del PM, lo condannò alla pena di sei anni di reclusione e 1.300 euro di multa. I suoi difensori, gli avvocati Giuseppe Tortora e Puccio Forestiere, presentarono appello e ieri si è chiuso il caso anche per l'imprenditore di Montalbana e Licona. Accuse e difesa avevano richiesto l'assoluzione e i giudici hanno concordato con queste richieste a favore di Colicchia, chiarendo una vicenda che lo aveva fortemente segnato sul piano personale e lavorativo. Grazie.